Musica Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Informativa della Giunta sul programma regionale di sviluppo. Garante dei detenuti, via libera risoluzione che apprezza l'attività svolta nel 2020. Al centro del dibattito in aula l'informativa della Giunta regionale relativa al documento preliminare sul programma regionale di sviluppo 2021-2025, un piano strettamente legato al PNRR e ai fondi strutturali europei. È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito. Ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato recovery plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile. E dall'altro ai fondi strutturali comunitari perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa, da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre. Non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social è un obiettivo perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Un'altra importante è un'informativa sul documento più importante che la regione toscana deve affrontare, il piano regionale di sviluppo è il documento con il quale le risorse comunitarie si integrano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. Il piano regionale per lo sviluppo ci aspettavamo sinceramente affrontasse i temi entrando un po' più nello specifico. Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi, arriveranno tanti soldi. La regione toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere, abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il digital divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male, che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato una risoluzione approvata dall'Aula maggioranza. È una grande occasione perché la Toscana nei prossimi anni potrà usufruire delle risorse provenienti dal settennato 21-27 della programmazione ordinaria per quanto riguarda l'FSE, per quanto riguarda il POR, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, a quali però si assommeranno le risorse provenienti dal PNRR, il Piano Nazionale di Residenza e Rilancio. Ci saranno risorse importanti che però dovranno essere colte. È una grande occasione per cercare anche di riunire e di riconnettere quelle tre toscane a cui fa riferimento l'IRPET, quella più ricca, più dinamica, quella centrale, più urbanizzata, con la costa e le aree interne che hanno maggiori difficoltà ma che hanno mostrato proprio in questa fase di pandemia anche delle grandi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo anche di carattere turistico. Quindi la Regione dovrà cementarsi con queste esigenze ma cogliendo questa grande sfida. Questa grande sfida che va giocata non da soli ma in una grande collaborazione, un grande coordinamento tra la Regione, gli enti territoriali, i vari stakeholder che operano sul territorio, quindi le imprese, le associazioni di categoria, il volontariato, le parti sociali e poi il rapporto con l'Europa e con il Governo. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivate a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAI era già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. Creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei, ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancora al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata, ma pensiamo che sia utile, e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza, cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori della Toscana. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che, come sempre, sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche. E tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Abbiamo iniziato a discutere il documento preliminare perché nonostante lo statuto preveda sei mesi per presentare lo schema di piano regionale di sviluppo, in realtà la giunta è in ritardo. Ritardo parzialmente comprensibile perché ovvio la discussione si lega al PNRR, cioè al Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, e naturalmente alla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Molte dichiarazioni roboanti si è passate dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto. In realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio, non tutto va male, ma il Governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria, con un percorso chiaro, perché i tempi del PNRR sono tempi molto stretti. Entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto. Pena la perdita dei finanziamenti. E in questo senso, e concludo, va purtroppo il ritardo dei tanti piani e programmi di cui la Regione Toscana si è dotata o si dovrebbe dotare, dalla tutela delle acque ai piani faunistici allo stesso piano di mobilità integrata, sono tutti piani o scaduti o assolutamente non completati ad oggi, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione sull'attività annuale del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della Regione Toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra Regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Tutto questo ha bisogno anche di dotazioni adeguate e infatti nella relazione resa dal garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della Regione Toscana e anche degli altri luoghi di detenzione, come ad esempio le camere di sicurezza istituite presso le forze dell'ordine. Un rilievo particolare merita la figura del garante per i detenuti a livello comunale. c'è un invito da parte del garante regionale a far sì che tutti i comuni indichino il loro garante comunale per garantire al meglio l'operatività e il raccordo tra i livelli locali e il livello regionale. Dal mio punto di vista arriveremo alla soluzione ottimale quando ci sarà un garante non solo per i detenuti, ma un garante anche per chi opera nei carceri. La visione onirica del garante dei detenuti su una certa criminalità reversibile, sul far riferimento a delle premesse di carattere sociale non ci piace. Lo dico chiaramente, sono convintamente assertore di quella che anche per la dottrina giuridica è la concezione neoritributiva della pena che vede nella pena la sanzione penale la sanzione per colpire l'autore del reato e che con il suo male ha creato un illecito e quindi un qualcosa a cui la società deve rispondere. Chi sbaglia paga. La rega su questo è molto chiara. Lo è sempre stato. C'è il problema delle carceri che occorre affrontare con provvedimenti come un nuovo piano carcere e quindi si impegna il garante anche in questa direzione di suggerire che si torni anche in Toscana a parlare di un piano carceri. Questa concezione, ripeto, molto nebulosa e molto vaga soprattutto dal punto di vista intellettuale non mi piace. Massimo rispetto per la figura di Giuseppe Fanfani che ammiro nella sua professionalità, nella sua storia ma ovviamente per quanto riguarda le carceri noi siamo veramente proprio di un'altra visione delle cose. Ed è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Cronache e commenti torna la prossima settimana.